Perché la sciatteria si paga, anche con la vita. Ad esempio, la storia che vi sto per raccontare, vede come malcapitata protagonista una mamma che va al pronto soccorso per un dolore fortissimo e non capiscono niente di questo dolore. Il tempo passa e purtroppo accade l'inevitabile. I figli non si rassegnano a quella fatale superficialità sciatteria. Buongiorno Andrea, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Sua mamma, Stella. Stella, sì. Quando è che ha cominciato a star male? Mi mamma ha iniziato a star male verso fine novembre, i primi di dicembre. Aveva questo male assurdo dietro la schiena e alla gamba sinistra. Da momento all'altro? Da momento all'altro, esatto. Mi ricordo che stava iniziando a preparare le cose di Natale e ha iniziato a lamentare questo dolore. Mia mamma era una che sopportava tanto il male. Infatti non voleva andare in ospedale all'inizio. L'abbiamo alla fine convinta, ma si è convinta da sola perché il dolore era esagerato. Quanti anni aveva? Quando è iniziato a star male ne aveva 60. Poi ne ha compiuti 61 in ospedale a marzo. E riusciamo a convincerla, a portarla al pronto soccorso. Fino a quel momento tutto andava bene, nessun problema. Tutto perfetto. Sana come un pesce. Sana come un pesce. E i soliti acciacchi che abbiamo tutti, ma nulla di che. Quindi la convinciamo ad andare al pronto soccorso, pronto soccorso di Treviglio, perché noi abitiamo lì. Lei è sua sorella? Io e mia sorella, sì. La prima volta la porta mia sorella, la accompagna lei, la visitano, le fanno una lastra. Da questa lastra viene fuori che lei ha una lombalgia, secondo loro. Le danno gli antidolorifici, le fanno una cura e la rimandano a casa con zero giorni di prognosi. Mia mamma torna a casa, si cura, inizia a curarsi. Questo male, al posto di diminuire, continuava ad aumentare. Aumentava sempre di più, le aveva sempre più male. Finché una sera non l'ho trovata io, verso l'inizio di gennaio, a casa che piangeva a letto. Gli ho detto, mamma, ascolta, prendiamo e torniamo in pronto soccorso perché non va bene così. La cura non sta facendo effetto. La riporto, non l'hanno neanche visitata. L'hanno lasciata seduta lì per ore, finché non è arrivato il medico. Il medico ha letto i fogli della prima diagnosi e me l'ha rimandata a casa ancora con zero giorni di prognosi, senza neanche visitarla. Non hanno prescritto magari un diverso antidolorifico. Neanche sa cosa gli ha detto? Ha detto, ha in borsa qualche antidolorifico? Fa sì. E fa bene, prenda quello che va benissimo. Me l'hanno rimandata a casa con zero giorni di prognosi. Cioè con la semplice imposizione delle maniche, guardandola. Guardandola, senza neanche visitarla, gli hanno detto, è la lombalgia, come abbiamo già visto prima, continui con l'antidolorifico. Ma non gliel'hanno neanche somministrato in pronto soccorso. E lei piangeva dal male, quella sera veramente piangeva dal male. Gli hanno detto di prendere quello che aveva in borsa. E me l'hanno rimandata a casa per la seconda volta con zero giorni di prognosi. Ora, per capire però, quando è che avete scoperto che non era una lombalgia? Allora, siamo andati... E come l'avete scoperto? Perché noi tra l'altro abbiamo un altro problema, Treviglio, ci sono pochi medici di base. Quindi siamo andati in una farmacia, questo farmacista ci ha consigliato di andare alla Guardia America da questo dottore. Questo dottore immediatamente si è accorto che c'era qualcosa che non andava. Ha letto i fogli, ha visto le lastre, gli fa, signora, qua c'è qualcosa che non va. Le prescrivo io d'urgenza una risonanza magnetica e vado a farla. Abbiamo prenotato la risonanza, urgentissima, nel giro di pochi giorni, è andata a farla in un altro ospedale. Addirittura se ne è accorto il tecnico. Il tecnico è uscito e gli ha detto, signora, non vada a casa, aspetti qua un attimino che le diamo immediatamente gli esiti. Quando le hanno dato gli esiti che gli ho aperti, mi è crollato il mondo addosso, perché erano tutte metastasi. Erano tutte quante metastasi. Che cos'era? Dove era il... Dopo abbiamo scoperto, perché poi la risonanza è stata fatta nella zona lombare. Poi avete fatto altri esami. Siamo andati a fare esattamente l'attacca con il contrasto, siamo andati a fare la PET. Dalla PET è uscito fuori che il tumore primario era i polmoni e al livello osseo erano tutte metastasi. Poi il tumore ai polmoni, ne so qualcosa, perché mio papà, insomma, se n'è andato per il tumore ai polmoni, non dà sintomi. No, non ha avuto mai un colpo di tosse, non ha avuto nulla, mai nulla. Anzi, addirittura dopo i medici ci avevano detto, ma guarda, meno male che ha avuto questo dolore e ce ne siamo accorti. Perché se no rischiavamo che... Perché è asintomatico. È asintomatico, assolutamente asintomatico. Quindi questa corsa contro il tempo e... Praticamente abbiamo iniziato, abbiamo portato all'Istituto di Tumori di Milano. Dove sono molto bravi. Dove sono l'eccellenza, assolutamente, lì ci siamo trovati molto bene. Hanno iniziato, hanno fatto una biopsia, dalla biopsia è venuto fuori, che praticamente eravano stati fortunati, fortunatissimi, perché questo qua era uno dei tumori, il DNA di questo tumore era uno dei più curabili, dei più trattabili. Potevamo fare chemioterapia, immunoterapia, addirittura ci avevano proposto una cura sperimentale in pastiglie, doveva prendere due pastiglie da casa e andare qui o una volta ogni 15 giorni in ospedale a fare la flebo. Evitando la chemio. Eh? Con la chemio, dico. Con la chemio. Da lì tutti felici, mia mamma tornando a casa ha iniziato a chiamare tutti. Anche perché quando sai con chi hai a che fare riesci a combatterlo quando finalmente rifanno una diga. Esatto, esatto. Quindi quel giorno... Era curabile. Era assolutamente curabile. Cosa è successo? Qualche giorno dopo lei doveva iniziare a fare i prelievi del sangue, per iniziare appunto il pomeriggio, poi la stesura del piano di cura, ma quella mattina mia mamma non ce l'ha fatta ad andare in ospedale. Stava troppo male, abbiamo chiamato l'equip dell'istituto dei tumori, ci hanno detto non possiamo perdere questa occasione, portatele immediatamente in un pronto soccorso, che le fanno tutti gli esami, e vediamo di capire di ristabilizzarla per iniziare la cura. Non c'era più niente da fare. Cioè già lì i valori non andavano più bene, con quei valori erano tutti sballati, lei non poteva più neanche iniziare questa cura sperimentale a quel punto. Allora da lì è iniziato tutto un sosseguirsi di esami, le hanno fatto delle trasfusioni di sangue, diverse trasfusioni di sangue, per cercare di rimetterla un attimino. Invece siamo arrivati a marzo all'istituto dei tumori, sono riusciti a trasferirla lì, il giorno dopo ci hanno chiesto se potevamo andare lì, sia mio padre, io, mia sorella. E avevano evitato? No, ma loro ci hanno detto chiaramente, è una questione di giorni, siamo arrivati troppo tardi. E questo mi lascia così, perché se fossimo arrivati a dicembre, quando abbiamo portato al pronto soccorso, a me sarebbe bastato dicessero andate a farvi voi una risonanza magnetica, qua c'è qualcosa che non va, andate a controllare. Ditemelo, vado io? Come ho fatto dopo? Perché dopo mi è stato detto qua c'è qualcosa che non quadra, andiamo a fare degli approfondimenti. Anche perché è una corsa contro il tempo e anche una settimana può fare la differenza. Cambia tutto, e infatti è cambiato per una questione di una decina di giorni. Quindi questo cosa vuol dire? che se fossimo arrivati a dicembre, lei avrebbe potuto iniziare la cura. Poi magari sarebbe andata lo stesso così, però le hanno tolto le chance di sopravvivenza, le hanno tolto ogni possibilità di potersi curare. E questo per me è imperdonabile, io non riesco a farmi una ragione. Perché non le hanno prescritto un esame in più, un attack? o qualsiasi altro esame sarebbe bastato per riuscire ad arrivare in tempo. Guardi, le hanno fatto la biopsia da una pallina che aveva nella spalla, che all'inizio non si era neanche vista con l'attack, se ne sono accorti all'istituto dei tumori. Con l'ago addirittura non riuscivano neanche a prenderla, per quanto era piccolina. Il giorno che è morta mia mamma aveva una pallina da tennis sul braccio. Da quanto questo tumore era aggressivo a quanto è andato avanti. E quando siamo arrivati all'istituto dei tumori era così invisibile quella metastasi, vuol dire che se fossimo arrivati a dicembre avremmo potuto fare di tutto. Avete denunciato? Abbiamo denunciato i tre medici che per le due volte l'hanno rimandata a casa con zero giorni di prognosi e l'ospedale di Treviglio. Perché non deve più succedere. Quello che spero io è che qualsiasi medico, ma non solo di quell'ospedale, ma di qualsiasi ospedale, la prossima volta che arriva una mamma, arriva un papà, arriva un figlio, che ha un dolore, gli facciano fare un esame in più. Perché non costa nulla andare a fare qualche approfondimento. E questa è l'unica cosa che a me interessa. Perché comunque mia mamma non me la riderà più nessuno. Quindi del resto che me frega. Non me ne frega nulla. Io voglio che la prossima volta che qualcuno si presenti in quel pronto soccorso o in qualsiasi altro pronto soccorso non vengano sottovalutati. Perché mia mamma, parliamoci chiaro, zero giorni di prognosi per due volte di fila vuol dire che è stata trattata come quella che va lì a rompere le scatole, a dire sì ho male alla schiena, vada a casa con l'antidolorifico. E questa cosa qua non esiste. Non esiste, non può essere. Non tutti i pronto soccorso sono così. Assolutamente non facciamo di tutta l'erba un fascio. Però capisco il suo punto di vista e condivido. Io dico, no, la prima volta, è raro umano, tu pensi di fare la lastra, la signora ha mal di schiena, ma la seconda volta che torno, no. No, la seconda volta che secondo me è imperdonabile. Come si chiama la sua sorella e il suo papà? Mia sorella Monica e mio papà Riccardo. me li abbraccio affettosamente. Grazie Andrea. Grazie. Spero riesca ad avere giustizia. Ci fermiamo, pubblicitempo di nuovo insieme.